E' una bravura nostra. Oggi è stata una giocata vincente, non è stata come quella dell'Inter. Magari che comunque siamo usciti senza punti, però oggi è andata bene, è andata la grande. Ti stai abituando sempre ai minuti? Sì, sicuramente non è il mio ruolo. Però penso che misti, misti, vedi la qualità, per giocare quello ruolo, per fare quello ruolo. Fino a che mi chiedi, fino a che le cose sono andate bene, penso che si può giocare. Però ti dà soddisfazione questo? Puoi giocare in un altro ruolo, ma aprire queste prestazioni. Ti dà soddisfazione essere riuscito a essere determinato. E' un'altra volta di l'anno. Sicuramente la soddisfazione è uscire di campo. Tutto questo ti dà soddisfazione. Sicuramente si gioca in un altro ruolo e comunque riesce a fare bene. Penso che anche lì c'è la soddisfazione, perché giocare in un altro ruolo non è facile. Ci devi mettere più attenzione, più concentrazione di quello tuo ruolo abituale.